Musica Allora, facciamo un piccolo e doveroso passo indietro Ritorniamo in tutti quanti i punti Scusami, il vestito da cosa? Ah ecco, boh, per qualche motivo non appariva Andiamo in tutti i punti in cui abbiamo lasciato qualcosina No, l'altro Ma per... scusami Ogni tanto non fa apparire alcuni oggetti Tiè, vai Ah, c'era un muro nascosto Con una scimmia dentro Per qualche ragione Ma non capisco questo indicatore qua accanto a cosa serva Scenditi Ah, aspetta un attimo Fermo un attimo Si percorre anche sopra C'erano delle monete nascoste Ah Allora C'è solo una guardia, giusto? Vabbè, distraiamola allora Te, ciao No, guarda la banana Ecco qua il videoclip numero 6 La guardia non ci ha proprio visto E torniamo di qua Ecco, qui c'erano un bel po' di lucchetti invece Il punto è, la guardia mi vede? Ovviamente Aspettiamo allora che se ne vada Ok Vai, 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 vai Perfetto No, non mi guardare Ecco qua Abbiamo il Monkey Prisoner Vabbè, c'hai ragione Ma dai, ma hanno disegnato una fata con le tette O sono le ali? Credo siano le ali, ok Forse sono io che sono malizioso Qui abbiamo un'altra zona dove arrampicarci E che cosa c'è? Una cesta Guarda un po' le sorprese Non finiscono mai Con dentro un po' di monete Vabbè, niente eccezionale Ma meglio di nulla Anche perché se riusciamo No, aspetta Ah, ok, dicevo Ma è chiusa Com'è possibile? Scusami C'è la scimmia antipose Ma dai Era antipose No, ti prego Ovviamente non la posso liberare questa Però, però Non posso liberarla Ma Ci sarà un meccanismo Eccolo là Per aprire le celle Che ti giuro Non riesco a capire Che caso A cos'altro serve La scimmia Non riesco a capire Se tipo Boh Se la vedono le guardie Si Si spaventa Che ne so Boh Tanto Altri sticker Anche l'altra scimmia Anche l'altra scimmia Ancora antipose Ma ti prego Mi sembra Che a questo punto Abbiamo preso Tutto quello che si poteva Prendere Bisogna proseguire In quella porta Allora Procediamo Con i nostri Nuovi poteri Di Geko Sai cosa Mi ricorda Questo livello Adesso ve lo dico Come faccio E saperlo Ah Quindi Ah Ecco cos'altro serve E come però Ah Così Cioè Basta che sono In una zona In cui mi posso Aggrappare Lei proprio Ci si aggrappa Subito Poverina Anche piccolina Cioè Nel senso Cioè Un bambino Di 10 anni Comunque Non ti dico Che pesa Ma Non è certo Leggerissimo No Sta povera scimmietta Si sta tenendo Anche sopra Pensa a te Allora Dobbiamo invece Usare La scimmia Carretto A questo giro No Dobbiamo puntarlo Di qua Vada scimmia Cos'è Perdere la dignità In cambio di una banana Aveva detto Cosmo L'altro No Sal Porca troia Ecco qua Porca miseria Timmy Ecco fatto 10 monete Vabbè Meglio di nulla Intanto Faccio un po' Di rifornimento Aspetta Lanciamo la banana Lì Ecco fatto Vada La ringrazio Ecco fatto Ok Quindi Usiamo i nostri Magici poteri Un altro sticker Una small guard Che vuol dire Allora 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 Ma Ci si è grappa Anche da qua No Credo che dobbiamo abbassarla Ok Ovviamente Ok Perfetto Allora 3 2 1 Aggrappati E avanziamo Qua invece dobbiamo fare Un pochino Di attenzione extra Ora Devo campire Il tempismo Aspettiamo 3 2 1 Vai Così Questa ora Sparisce Quella ora Ritorna Ci appoggiamo Qui Aspettiamo Che questa Esce Aspettiamo Che quella Rientra Ed ecco Fatto Perfetto Ah ok Non posso correre Per un attimo Ho pensato Di poter fare Un piccolo sprint Ma Giustamente Sta povera scimmia Ci sta anche Tenendo sopra Voglio dire Allora 1 2 Qui Vada Signor cameriere Scimmia Dov'è? Dov'è andata? Ma Scusami Va bene Proviamo a salirgli sopra Magari Gli serviva un piccolo prompt Dove cacchio l'ho lanciata? No Qui 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 Ma porca Vada signora Proviamo a lanciarla là Dovremmo esserci Perfetto Proprio Nel punto esatto Dove dovevamo arrivare Grazie Eh forse poco più avanti Ma Ecco fatto Wow Per 5 monete Va bene Non importa L'importante è prenderle 3 2 1 Vai No Fanculo Sto carica Il caricatore E' terribile 3 2 1 Vada signora No 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 Di qua Per favore Di qua Dai ti prego dimmi che Che ti va bene lì Direi che questa angolazione Invece è giusta Giusto? Vada Oh Oh finalmente Ce l'abbiamo fatta Eccoci qua Portiamo la scimmietta qui Che sta succedendo? Credo stia scendendo un ascensore Sì Grazie delle monete E ora avanziamo Vediamo se c'è qualcosa di nascosto Non credo Perfetto Però c'è un punto di salvataggio Benissimo Grazie delle monetozze Quanto siamo? Un pezzo di quadrifoglio 3 sticker Il videoclip apposto E 142 monete Siamo secondo me Abbastanza lontani Dal completarlo Con le banane Siamo a posto Possiamo proseguire Scusami Ah C'erano le guardie Da quella parte Ah E mi hanno visto Con le luci Ok Calma Basta che sto sopra Cioè veramente Ti basta questo Per Per convincerti Che sono andato via Eh vabbè Qua ho sbagliato io Perché Tra l'altro Ci mi ha No Mi ha guardato male Sono sopra Non mi puoi vedere Prima non mi hai visto Sei una bugia Ecco fatto L'abbiamo passati Semplicemente Ma Scusami Giusto curiosità Ok no eh Cos'è il loro laboratorio Di ricerca Questo Come faccio a risalire Qui se voglio scendere Credo di non poterlo fare Questo vuol dire che Ci tocca salire subito Non possiamo farlo Non possiamo farlo Per qualche arcano motivo Forse perché è troppo alto Eh forse Però Intanto scendiamo Grazie delle cinque monete Questo lato c'è qualcosa Ovviamente no Però a parte la scala Allora usiamo i nostri poteri Gekici Per prenderci un'altra cesta Con dentro un'altra Sticker Eh lo so Taglia qua Ok abbiamo Due guardie Che fanno lo stesso Percorso Questa arriva Esattamente qua sotto Ecco fatto A me importava Prendere le monete Quindi Per adesso Va bene così Qui Perfetto Calmo 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 Ok Usiamo il lancio a banane Qua Credo che non servirà Basta girarlo veloce Ecco dai Perfetto Perfetto Non è servito neanche il lancio a banane E che cosa abbiamo Qui un altro ascensore Perfetto Vediamo dove ci Oh Pensavo verso l'alto Io non verso l'obliquo No E la moneta è andata Ma dai ma quante monete Vabbè intanto adesso scende Giusto E una L'abbiamo dimenticata Di qua E dai Eccoci di nuovo sopra C'è un nuovo tipo di guardie lì Mi sa che queste le possiamo attaccare Ma dai ma cos'è sto coso Cos'è sto panzer Santo cielo Facciamoci un po' di scorta No Ok Credo che queste le attacchiamo E basta Giusto Vai a prendere la banana No banana No banana Ok Abbiamo appena ucciso delle guardie Va bene Siamo dei criminali Grazie E come faccio a tornare di sotto Mi sa che stiamo avanzando qui eh C'è un'altra scimmia antiposa Anche se non si nota molto Perché vabbè è sgranato Eccola là Ma scusami Ma nel laboratorio abbiamo lasciato giù qualcosa Qua non torniamo più nel laboratorio Mi sa E scusami Come ci arrivo là io Scusami Provo a farmi catturare Giusto per amor di causa Ah Se mi cattura mi riporta al Checkpoint Più vicino Ok Non ho idea di come salire là sopra Seriamente Ah Aspetta E perché a volte non ci si pensa Perché Alcune volte Sti blocchi Non sono muovibili Eh Bastava giusto Quell'attimo di testa In più Ecco fatto Tutto questo per prendere Cosa Una decina di monete Neanche chissà cosa eh Però Voglio dire Buttale via Siamo quasi a 500 Oh no Io sono caduto proprio in testa Di tutti Oh Di tutti i momenti In cui è apparsa Sta scimmia Proprio nel momento In cui sono sceso io Tanto cielo Va bene Ora si che possiamo Proseguire Vediamo Allora Qui c'è la rete Questo vuol dire Che dovrò Farla uscire In qualche modo Giusto Come però Buttando la scimmia Sopra quel piedistallo 3 2 1 Vai Oh la madonna Che velocità Che velocità Di esecuzione Allora Aspetta un attimo Che questa rientra Ora Vai 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 Entra Perfetto Eccoci arrivati Grazie scimmietta Di aver preso la banana Dove siamo Ah siamo in cima Alla statua Non sapevo Che partiva Nakazin Rompendola Cosa Cosmo Non l'ho capito Comunque Come devo attivarla Ah Proprio così Semplice Semplice Cosa succede Se mi butto Di sotto Secondo voi Muoio O devo rifarmi Tutto il livello Perché vorrei vedere Là sotto Cosa c'è Aia Che dolore Pensavo che si potesse salire Invece devo Saltare Su ogni singolo pezzo Grazie delle monete Oh 502 monete Il negozio Era proprio qua sotto Volendo Vai Portaci Dell'altro lato Ah no Mi porta di sotto È un ascensore E questo mi porta Alla domanda successiva Come arrivo Dall'altra parte Ah è vero Aspetta Bastava Non me lo ricordavo più Bastava Attivare il pilastro No Che parlo Sto launcher Di banane Santo cielo Scimmia Qui Grazie Ci mancava Il potenziamento Prima È vero Ecco come si faceva Vieni A me potere Gekiko Ecco fatto Apriti Ecco fatto Con calma Vediamo cosa c'era Dall'altro lato C'era questo robo qua Sono abbastanza Confuso Allora Iniziamo A lanciare Questa lì Un po' più avanti Ok Perfetto Però prima Scendiamo di sotto Ma se lo giro Dall'altro lato No Devo farlo per forza Verso sinistra Ecco qua Perfetto Grazie Altro sticker Ovviamente Mam Ecco qui Grazie Sarebbe stato bello Se il potere Gekiko Che succede Ah certo Perché ci sono le liane Si incastra Se il potere Gekiko Avesse avuto altri Diciamo Utilizzi Non capisco Cosa siano Questi cosi qua E tu stai ferma Cacchio Ma stai lì al tuo posto Ecco fatto Statene lì Lo sapevo Guarda Era palese Però volevo vedere Se tipo erano delle mine Se esplodevano Che ne so Poteva essere Qualsiasi cosa Ecco qua Intanto Ci prendiamo Lo sdindinos Ma porca misera Proprio Ci sono schiantato contro Grazie del quadrifoglio Che adesso Come adesso Mi serviva Qui che cosa abbiamo Altre scimmie guardiane Devo ricordarmelo Che la scatola Con sulle banane Si può muovere Perché È molto Ah si spaventano Donna Sei buono Sei spaventata Dalla culata Ci sono tutte Ste scatole Uguali Con la texture E pensi Ok Sono tutte uguali Però no Queste qua Con la banana Si possono spostare Bisogna ricordarcelo Ecco Fatto E spostiamo Questo qui Ottimo Vediamo Che cosa Si nasconde Da Testellate Un altro Pezzo di quadrifoglio Grazie Di qua Si prosegue È un scivolo No È cazzone Io non mi c'ero Già avvicinato Però Dai Ah le monete Non si riescono A prendere Sguscia Da tutte le parti Devo rifare Almeno Un altro giro Forse Anche due Addirittura Dai Però Nel livello Quello là Del Del come si chiama Nel Dov'è che eravamo Che c'era anche lì Lo scivolo Nel primo livello Inferli Disastrous Lo scivolo Ti prendeva Le monete In automatico Dai Però Qua invece No Le ho mancate Praticamente Quasi tutte Oh no No Ti prego Non dirmi Che posso Romperlo così Perché guadagno Velocità Della scivolata Ti prego Oh no No Il mio stacco Ok Basta continuare A smashare Che culo No Oh no Eh Quello Quel pezzo Potrebbe essere Difficile Da superare Non buildiamo Abbastanza Velocità No Dai Cacchio Non prendiamo Abbastanza Velocità In questo pezzo Ecco fatto Ok siamo di nuovo Ok siamo di nuovo qui No Qua è impossibile Questo pezzo qui è impossibile No ti prego Aspetta Sono finito In una parte In cui non dovevo Mi sa che sono finito In una parte In cui non dovevo No ti prego No Sono finito In un pezzo Di scenario No Guarda Che è tutto Intangibile È tutto Intangibile Tranne questi pezzi No Ti prego Fammi uscire E se faccio Restart Mi restarta Il livello No ti prego Piuttosto Ricarico il salvataggio Eh per carità Si Ti restarta Tutto il livello Ok Rieccoci nella zona Dello scivolo A questo giro Uccidiamo le guardie Come prima E stavolta Scendiamo Con un attimino D'attenzione Che tra l'altro Mi sa che se mi butto Di sotto Di qua Comunque Il pezzo Cioè Ci arrivi in fondo Ok Stavolta Ecco niente Stavolta Non mi freghi Stavolta Il 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 trucco Lo conosciamo Dove per dire il culo Il trucco Lo conosciamo Non mi possono Sfuggire No No Non mi sfuggiranno Altre monete Ecco No 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 Vieni qua Ecco fatto Ecco Vedi appunto Io ho sempre avuto Ho pensato a questo piano Perché in molte sezioni Scivolo Di alcuni giochi Io sta cazzetta la facevo Veramente di andare indietro Di cercare di andare indietro Perché in molti altri giochi Questa cosa C'era un ascensore Questa cosa non funzionava C'era un ascensore Abbiamo rifatto il livello Per niente Per niente C'è 1.002 Di IQ Ragazzi 155 Assolutamente Porca troia Vieni a me scimmia Allora Con calma Con calma Con calma Iniziamo Da questa zona Prendiamo tutte le monete Prima Eh lo sapevo Lo sapevo che sarebbe finita così Sapevo che avrebbe cambiato Direzione all'ultimo Ecco fatto Vediamo se c'è altro A parte un po' di monete Non credo No forse invece si Forse c'è dell'altro Allora iniziamo Lanciandogli Una banana Alla scimmia Così dovrebbe bastare Perfetto Più o meno Ho iniziato a capire Effettivamente Come funziona La distanza Ma non ci giurerei Troppo Questo Un'altra discesa Dello scivolo No Ok no Questa Mi sa che è forse La zona dove abbiamo Trovato la statua gigante Allora Però prima Ecco fatto Allora Distraiamo la guardia Lanciamogli Il bananone Ecco fatto Scimmia A me Vai 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 Perfetto Ormai ci ha visto Allora Vieni a me Scimmietta Per favore Ecco fatto No Troppo Scimmia Qui Per favore Brava Gnamete Quanta Quanta tristezza In tutta Questa immagine Perfetto Tutti quanti I miei regali Sono qui Un altro sticker Qua si saranno Lotti le palle Di mettere i premi Hanno detto Ma si mettiamo Quattro ceste In un'unica stanza E fettiamocene Il cazzo Dai Qua c'è il quadrifoglio Ovviamente Quasi erano Proprio stancate Ma si ascolta Mettiamo Quattro ceste In un punto Solo E va bene Così Anche perché Vediamo a che punto Siamo Siamo A cinque sticker Due quadrifogli Un videoclip E 245 monete Ok A rigor di logica Ancora penso Che manchi Un bel pezzettino Ma a livello Pratico Non ci giurerei No e comunque Avevo sbagliato Non siamo ancora Arrivati alla statua Quindi Ancora un bel pezzo Secondo me ci manca Ecco qua Altri soldi Beh dai Secondo me A questo livello Ce la si fa A questo livello Ce la facciamo Ad arrivare alle 300 monete Non diciamolo troppo Perché sennò Magari poi Come al solito Non ce la si fa Però Ehi La speranza Lutiamo lì E ci insegnano Però se continuano A mettere Ceste da 10 monete Scusami Vabbè Oi salta Non ho capito Questa zona qui Con la guardia Però vabbè Ma dai È il monte Rushmore Delle scimmie Il monte scimmior Che cosa Apri tu Apri questo Ok C'è qualcosa Là dentro Non credo Perché Eventualmente Se io entro qua Entro lì Poi tolgo la scimmia In teoria Posso uscire Da quelle casse Vai scimmia Ovviamente No È troppo lontana Per te No Qui Forza Brava Magna Brava E ora Vai là Perfetto E ora Ti chiudo in trappola Mi spiace Madonna mia For bananas La liberazione Un altro scivolo E stavolta Niente monete Va Sono stati caritatevoli Allora C'è qualcosa qui No Perfetto Sai dov'è che perdi Secondo me Bastoni Dove Dove perdi Secondo me La maggior parte Delle monete Sui muri Cioè nel senso Se non ti sali E non ti guardi Ogni singolo Lato Del muro Magari ti perdi Qualche monetina Lo so che posso salire Tutta la zona Verso il muro Wanda Che cacchio di consiglio è Il punto è che volevo Prendere Quello che c'era Lì No Allora aspettiamo che passa Ma dai Non l'ho toccato È una bugia Ho voglia di nuggets Ora Dopo che sono morto Ingiustamente Aspettiamo un attimo Ecco fatto Allora Qui non c'è nulla Perfetto Qui c'è un quadrifoglio Qui ci sono delle banane Che prendo Qui c'è una E una sola moneta Grazie Wanda Di avermi detto Il consiglio più ovvio Della storia Ok Qua la zona è più stretta Dobbiamo fare Molta attenzione Qui allora Bisogna fare un continuo Saliscendi Se vuoi Riuscire a passare Il punto è che io Volevo vedere se c'erano monete Per fortuna L'abbiamo presa Allora Scimmietta Pensa adesso Arsera arrivato qui E non avevi le banane Ecco fatto Facile Grazie Ecco fatto Ecco fatto Ma Ah certo La scatola Vabbè Vedi che a volte però Le scatole non si muovono La scatola qui è se volessi scendere Almeno puoi risalire Perché dovrei scendere lì Non si sa La madonna Quanto è lunga Quanto è lunga sta sezione Cioè è più lunga questa Di tutto Di tutta la prima parte Del gioco Grazie A quanto siamo arrivati Beh dai Dai Te l'ho detto che Mancava ancora un bel pezzettino E che ce l'avremmo fatta Secondo me Allora Abbiamo Una moneta lì Una moneta là sotto La guardia con tre monete Altre monete che fanno il giro Hai voglia qui Prenditi il potere dei gechi Allora Iniziamo Da questa qui Poi Aspettiamo che quello scende E ora risale Aspettiamo un attimo La guardia Ecco fatto Vai dall'altra parte Per favore Vai dall'altra parte Centurione Romano Gorilla Grazie Ora Questo fa tutto il giro Però questo non è tutto Ah Oh no Ok Per fortuna Non prende tutto lo spazio Sto Quel disco lì Della morte Aspetta Ecco fatto Pensavo che occupassero Tutto lo spazio Del quadrato Ma per fortuna Non era così Allora Qui c'è qualcosa Non lo so Però intanto Mi faccio rifornimento Di bananas Grazie anche Del pezzettino Di vita E niente Ok Qui non c'è nulla Oh E finalmente ci siamo Beh Attiviamo Attiviamo anche la seconda E vediamo che succede Timmino Però prima di attivarla Perché Giustamente Probabilmente Potrebbe poi Attivarsi Che ne so La boss fight O finire il livello Si sa mai Attiviamo anche L'ascensore Così Giusto per sicurezza Attiviamo Il bananone No Che fai Pazzo Banana Però Sapendo che Probabilmente Quella Giant Banana Ci porta Dal boss Io vado A salvare Il punto Che abbiamo 500 monete Adesso Potremmo Comprare O la vita O l'ultimo Pezzo Del radar Ma sinceramente Non lo sto Neanche Cagando Il radar Sincero Quindi Ah beh Ne abbiamo 600 Lo compro Giusto per Per completismo Niente di più Anche perché In teoria Con No Col prossimo livello Ne prendiamo 300 A dire tanto Se lo completi Se vogliamo Prendere anche questo Dovremmo completare Proprio Tutti i livelli Al 100% Di monete Non è fattibile Cioè O meglio È fattibile Però Non in questo Esatto Momento Vieni qua Che tra l'altro Almeno vediamo Se in queste zone Si vede Effettivamente qualcosa Con il nuovo radar Ma non credo Quindi Andiamo Nella Giant Banana Bot Ai Entra in bocca No Ti prego Io mi aspettavo Entrassi dall'altra parte Non in bocca Cioè proprio Aperto Tipo solo Enigmista Spaccato la faccia E c'è la mamma Di in bocca Di in bocca Di in bocca Si dai E non ho capito cosa devo fare. Ok, e cosa... Sì, l'avevo immaginato, ma a cosa mi serve? Non ho capito, a cosa mi serve il banana launcher? Scusami. Non ho capito cosa mi serve il banana launcher a voi due. E lui è troppo veloce. Allora, forse devo girare tutta la zona e arrivare gli dietro e poi lanciare. E poi lanciarla la banana. Ok, sì. Era un po' meno ovvio di quanto in realtà sembra. Aia. Vabbè, almeno ho fatto ricarica. Ok, lanciami il cocco. dai 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 Abram Leipcom Ma dai, anche ora senza musica di nuovo Ma perché ste sezioni gli perde il volume? Neanche una Eh, esatto Che carina la madre Dove va? Dove stai andando? Come fai a uscire da qua? Non sai anche dove sei Eh Quando l'hai presa? Cosa è successo? Ah, lo show, certo Ma dai Dai la striscia quella della tv quando va su e giù Sono sicuro che col volume sarebbe stato anche abbastanza più divertente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti